A 40 giorni dall'aggressione da parte dell'ex compagno che l'ha ridotta in fin di vita, Paola Piras, 51 anni di tortoria, è stata svegliata dal coma farmacologico indotto cui l'avranno sottoposta i medici dall'ospedale Nostra Signora della Mercedella Nusei. La donna era stata colpita da 18 coltellate inferte da Masih Shahid, 29 anni, di nazionalità pakistana, che ha anche ucciso Mirko Farci, il figlio 19enne di Paola Piras, intervenuto per salvare la madre. Al momento la donna, che al risveglio ha chiesto di Mirko, non conosce il tragico destino del figlio. Il quadro clinico è ancora grave, i medici hanno deciso di usare la massima cautela per non compromettere i progressi fatti dalla donna, che ancora non è fuori pericolo. Quando le condizioni cliniche lo consentiranno, sarà un'equipe di psicologi a procedere. I tragici fatti risalgono all'11 maggio scorso, a Tortoli, quando l'ex compagno della donna, raggiunto da un provvedimento restrittivo dopo una denuncia per maltrattamenti, si era introdotto nella notte nella casa di Paola Piras, accoltellandola ripetutamente. Solo l'intervento in sua difesa del figlio Mirko ha salvato Paola Piras da un destino certo. Nelle ore successive all'aggressione, Masih Shahid era stato catturato dai carabinieri e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria per rispondere ai gravi reati commessi. Un delitto, quello di Tortoli, le cui modalità hanno sconvolto non solo la cittadina Ogliastrina, ma tutta la Sardegna.